Sono molto triste per quello che è successo. Sono triste che abbia l'AIDS, triste e basta. Sono contenta che lo abbia annunciato in pubblico, anche se mi dispiace per lui. Secondo me aiuterà tanta gente che ha questa malattia. Spero che farà aprire gli occhi alla gente che finora ha ignorato questa malattia. Con il suo nome, Magic, un po' di magico c'è. Spero che guarisca. Ho cinque figli maschi e spero che questa sia una lezione per loro e per il resto del mondo, i giovani soprattutto. Può capitare ad ognuno di noi perché nessuno è perfetto. Questi gli umori stamani a New York. Irving Johnson una volta di più si è conquistato sul campo il titolo di Magic Johnson, il magico Johnson. L'ultima vittoria, la più difficile della sua vita, l'ha ottenuta ieri sera, notte fonda in Italia, quando è comparso sui teleschermi dell'America in diretta tv, ha annunciato a milioni di fans di aver contratto il virus dell'AIDS e di aver deciso di ritirarsi immediatamente dal basket. Calmo, imbattuto, ottimista, la voce è serena, a tratti, illuminata da un sorriso magnetico. Così Magic Johnson ha trasformato una notizia tragica in una ragione di vita. D'ora in avanti mi impegnerò nella battaglia contro l'AIDS. Voglio che i giovani capiscano il pericolo e pratichino il sesso sicuro. E ancora, per me è un'altra sfida, un'altra partita. È come se mi avessero messo con le spalle al muro, ma io combatterò e vincerò. Magic Johnson, 32 anni, ha saputo di essere siero positivo mercoledì, quando ha ricevuto il risultato del test cui si era sottoposto per ottenere una pollizia di assicurazione sulla vita. L'atleta non ha per ora sviluppato la malattia, ma i medici gli hanno sconsigliato di continuare a giocare. La sua forte personalità è alla base dei successi ottenuti in 12 anni di irresistibile carriera sportiva. Ha portato la sua squadra, il Lakers di Los Angeles, a conquistare 5 volte la palma d'oro del campionato americano. E per 3 volte, nell'87, nell'89 e nel 90, si è guadagnato il titolo di più bravo giocatore di basket. Ma Magic Johnson non è solo il migliore giocatore di pallacanestro degli Stati Uniti. I suoi occhi magnetici, la sua vitalità, le sue campagne per la raccolta dei fondi per favorire l'accesso dei neri all'università, ne hanno fatto un idolo, un modello per milioni di giovani americani. Si spiega solo così l'omaggio che gli ha reso il presidente Bush stamani a Roma. Per me è un eroe, lo è per i tifosi e credo per tutti quanti nel mio paese. Mi dispiace di non aver fatto abbastanza nella lotta contro l'AIDS. E si spiega così lo spazio enorme dedicato al caso dai giornali e dalle televisioni americane. Da ieri qui quasi non si parla d'altro. L'America è sotto shock, ha paura. La gente ha colto il significato profondo della vicenda. Se anche un idolo, il Magico Johnson, è vulnerabile, allora l'AIDS potrebbe covare dentro ciascuno di noi. L'allarme lo ha lanciato lo stesso atleta. So che la gente pensa, bene, solo gli omosessuali possono beccarsi l'AIDS. E invece non è vero, può succedere a chiunque, anche al Magico Johnson. Lo stesso atleta. L'AIDS potrebbe covare dentro ciascuno di noi. L'AIDS potrebbe covare dentro ciascuno di noi. Se anche un idolo, può succedere a chiunque, anche al Magico Johnson. L'AIDS potrebbe covare dentro.